Si è svolta ieri al Virgilio Fedini la terza amichevole estiva per il San Giovanni Valdarno. Dopo la sconfitta nella prima uscita contro il Poggi Bonzi e la vittoria contro il Sansepolcro per 1-0, continua la striscia positiva per gli uomini di Mister Calderini, che battono anche la Sestese per 3-2 in una giornata climaticamente molto calda. Le reti sono state di Mugelli, Righeschi e Berti, per gli ospiti assegnato Biondi e Orlando. Buona la prestazione complessiva della squadra, che si allenerà fino al 14 agosto, per poi prendersi una pausa che prelude all'inizio della fase finale precampionato. Intanto domani di nuovo tutti in campo per un nuovo test sempre al Fedini contro il Fiesole Caldine, che fu dell'attuale Mister del Marzocco Calderini. Grazie a tutti.